Tre giorni di Masterclass a Notaresco, ma davvero il 6 luglio, poi ci sarà un appuntamento importantissimo. Si parla di un solista di fama internazionale, perciò un evento nell'evento. Sì, il maestro Alessandro Fossi, che è considerato il più bravo musicista per quanto riguarda il basso tubo, uno strumento particolare che di solito si può ammirare nelle bande musicali. e la Masterclass di tre giorni con 10 allievi, quindi numero chiuso, provenienti da tutta Italia. Il maestro Fossi ha suonato con le più importanti orchestre al mondo e è stato diretto anche dai più grandi direttori d'orchestra del mondo. L'occasione monica in Abruzzo, l'evento è stato possibile e sarà possibile grazie al contributo della Fondazione Tercas, il BIM, il patrocinio del Comune di Notaresco e di uno sponsor tecnico, la Buffet Crampon, la celebre fabbrica di strumenti musicali francese. Quali saranno le atmosfere che accompagneranno la serata? Saranno proposti dei brani originali per questo tipo di formazione, orchestra di fiati, di 40 elementi, che si distingue dalla banda tradizionale italiana, dalla presenza di due contrabbassi, ma anche strumenti insoliti per la banda come il fagotto, pure il corno inglese. Per quanto riguarda il repertorio, oltre a brani originali scritti per questa formazione, anche colonne sonore di film che si addicono molto a questo tipo di orchestra.